Cattive notizie per la produzione industriale italiana, mai così bassa da 22 anni. Secondo l'Istat, nella media del 2012 ha infatti segnato un calo del 6,7%. In termini di volumi, cioè di quantità di beni prodotti, si tratta del livello più basso, almeno dal 1990. Dall'inizio della crisi, cioè dal picco raggiunto nel 2008, l'indice della produzione industriale ha perso un quarto del suo valore. Le diminuzioni più marcate riguardano i beni intermedi e i beni di consumo, mentre flessioni più contenute si rilevano per l'energia e per i beni strumentali.